amici e maescalconero qui comunque sul tevere la situazione è terribile vi faccio vedere cioè non si contano ma state vedendo se guarda pesci morti dappertutto dappertutto e qui a pochi metri continuano guardate pesci morti che galleggiano sul fiume è una scena raccapricciata che perché cioè qua stiamo parlando di un inquinamento del fiume guarda 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 e questo è terribile questa cosa continuiamo e questo è terribile e questo è un disastro ambientale follower è veramente qualcosa di incredibile anche di preoccupante speriamo che le responsabilità vengano accertate qui in roma da mani scalconero è tutto alla prossima